E' stato molto emozionante conoscere comunque grandi persone e soprattutto importanti e abbiamo appunto potuto interagire con loro, fare delle domande e conoscere molte curiosità di questo lavoro. Prima di partecipare alla premiazione abbiamo potuto leggere dei libri originali in lingua francese e è stato un grande aiuto anche per lo studio poi scolastico della lingua in quanto ci mette davanti la lingua moderna così come viene parlata oggi e anche alcune strutture che aiutano poi la comunicazione. Allora io da questa esperienza mi ha appunto proprio un mondo, il mondo dell'editoria, il mondo dei libri, un mondo che secondo me dà molte opportunità anche per noi che magari studiamo lingue non proprio un percorso classico eccetera. Quindi io ho avuto anche l'opportunità di parlare con uno che gestisce proprio l'editoria, una casa editrice e mi ha dato grandi aspettative per il futuro e che potrei benissimo camminare su quella strada lì. Lo sviluppo di una recensione fa sì proprio che entriamo nel mezzo della lingua non solo una lettura passiva ma anche una lettura attiva e quindi una critica ed è anche credo abbastanza importante poi per saper anche affrontare uno studio completo della lingua e quindi sì c'è stato questo lavoro di critica e di lettura. grazie grazie buon